Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sappiamo tutti benissimo che portare il vostro smartphone in spiaggia o in piscina, adesso che è estate, è sempre un incubo perché fra acqua, sabbia e crema il vostro telefono potrebbe distruggersi. Per fortuna Cellular Line ha creato la linea Voyager che sono delle cover che servono per queste necessità ma tutte con caratteristiche diverse. Queste qui sono le prime due custodie Voyager che sono impermeabili fino a 20 metri sott'acqua che è tantissimo e sono perfette per fare foto e video quando andate al mare o in piscina. Sono molto facili da utilizzare però assicuratevi bene di seguire le istruzioni per chiudere la custodia correttamente. Ora vi mostro basta inserire lo smartphone e chiudere la custodia in questo modo. Oltretutto il touchscreen funziona benissimo e una cosa bellissima anche da fare è mettere la musica sott'acqua, io ho provato ed è una cosa bellissima davvero. Questi qui sono alcuni video che ho fatto sott'acqua. Pollici in su assolutamente per queste cover che tra l'altro proteggono benissimo anche dalla sabbia e dalla crema. Potete addirittura telefonare senza dover togliere il telefono dalla custodia quindi sono davvero utilissime queste custodie. Questa qui invece è la Voyager Music con cui potrete ascoltare anche la musica sempre però proteggendo il vostro telefono. Basta solamente collegare le cuffiette qui e invece il cavo che c'è all'interno basta collegarlo al telefono quindi è davvero facile e soprattutto molto molto utile. Questa qui invece è la Voyager Pochette che non protegge dall'immersione in acqua però è utilissima per proteggere dagli schizzi, dalla sabbia, la crema eccetera. È fatta così e qui all'interno potete inserire il vostro smartphone. E anche con questa il touchscreen funziona perfettamente. La cosa utile è che ha queste tasche in cui potete inserire documenti, soldi eccetera e evitare di portare la borsa in spiaggia perché con questa avete tutto qui e il vostro smartphone sarà protetto al 100%. Oppure potete portare dei soldi per prendere il gelato magari. O magari se dopo la piscina dovete uscire o semplicemente volete ritoccarvi un po' anche dei trucchi perché no. Come vedete ci sta tutto perfettamente e anzi ci sarebbe ancora spazio per inserire altre cose. Questo qui invece è il Voyager Wallet che è da uomo però è utilissimo anche per le donne perché così il vostro ragazzo smetterà di chiedervi di mettere le sue cose nella vostra borsa. Come con la Pochette il telefono va inserito qui all'interno. In questo modo il touchscreen funzionerà perfettamente e qui avete lo spazio per inserire i documenti, soldi, tessere eccetera eccetera. Questo era tutto per questo video, io vi auguro una buona estate, fatemi sapere nei commenti che programmi avete per quest'estate e dove andrete. E noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!